Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre termina in Abruzzo il fermo pesca, torna così il pesce locale sulle nostre tavole. Vediamo il servizio curato da Paolo Renzetti. Termina il fermo biologico, la prossima notte le barche delle marinerie abruzzesi tornano in mare. Alessandra Fiore, una bella notizia? Una bella notizia per le barche, per gli imprenditori ittici che tornano a lavorare, ma una buona notizia anche per il consumatore che potrà così acquistare pesce fresco locale. Buona notizia, ma comunque non è tutto oro quello che luccica, perché sappiamo che il fermo pesca è uno strumento che esiste da 35 anni e andrebbe rivisitato, perché è molto rigido, le imbarcazioni e gli imprenditori ittici non possono quindi scegliere quando andare in mare e quando no. Dovrebbe essere più elastico, dovrebbe permettere più autonomia, anche perché questo in base alle condizioni di mercato che variano, in base allo stato delle imbarcazioni, alla mutazione delle imbarcazioni, ma anche in base alle ferie del personale. Quindi maggiore elasticità ci vorrebbe, anche perché è un settore, quello ittico, che risente in questo momento di un periodo particolare. Ricordiamo che con l'emergenza Covid è stato chiuso il canale Oreca, quindi la ristorazione non ha funzionato a dovere, quindi il pescato, il pesce, quindi il settore ittico è stato fortemente compromesso. A proposito di ristoratori, da domani anche i turisti, chi è ancora nella nostra regione a soggiornare potrà tornare a gustare il pesce nei ristoranti, nei locali della nostra regione? Certo, l'invito è sempre quello di chiedere il pesce locale, il pescato locale, possibilmente quindi per chi invece lo acquista al negozio, di controllare l'etichetta, esiste un'etichetta anche per il pesce e vengono indicate appunto le aree di pesca, le zone di pesca. Brucia da due giorni il Parco Nazionale della Maiella nel versante pescarese tra i comuni di Letto Manopello e Serra Monacesca al di sotto di Passo Lanciano. Le fiamme stanno interessando una zona che si estende su circa 25 ettari tra area naturale, pascoli arborati e pineta. In azione stamani due canadeire, l'esercito intervenuti a supporto di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri forestali. In mattinata a causa dell'incendio è stato necessario interrompere la viabilità tra Letto Manopello e Passo Lanciano. L'incendio è divampato domenica, inizialmente era stato domato, ma ieri sera a causa del vento e delle condizioni climatiche le fiamme hanno ripreso vigore. E poi ancora attimi di paura nella notte a Pescara per un incendio che si è sviluppato all'interno dei locali di un calzolaio in via del santuario, in zona Colli. L'intera palazzina che ospita l'attività è stata evacuata in via precauzionale. Le fiamme sono divampate attorno alle ore due. Lanciato l'allarme sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti fino all'alba, mentre gli accertamenti delle forze dell'ordine sono ancora in corso. E andiamo avanti, si avvia ad una schiarita la vicenda riguardante il liceo Marconi di Pescara. Questa mattina l'assessore regionale quaresimale ha incontrato la provincia per definire la dislogazione delle varie sedi. Vediamo il servizio. Assessore, si avvia ad una schiarita la vicenda del liceo Marconi di Pescara. Proprio nelle ultime ore lei ha avuto un importante incontro a tal proposito. Cosa è emerso? Sì, questa mattina abbiamo fatto un giro con i colleghi di Incecco e De Renzis presso alcuni istituti scolastici, tra cui il Marconi, perché appunto c'erano queste criticità e la preside ci ha detto che ha fatto degli incontri sia con gli studenti che con i genitori e sembra che la situazione si vada definendo. Quindi è una buona notizia, considerando che noi come regione abbiamo dato anche un contributo di 600 mila euro a metà luglio con un emendamento apposito e voglio ringraziare il Consiglio regionale per cercare già lì di trovare una soluzione. Poi c'era questa problematica del doppio turno che però sembra risolta e quindi sono molto felice di questo esito. L'auspicio è che poi a questo punto i lavori vengano portati avanti secondo il calendario prestabilito e che non ci siano ritardi. Sì, sicuramente l'auspicio è questo, però come mi dicono a metà ottobre i lavori saranno definiti e quindi si tornerà alla normalità. Quindi sono molto felice di questo inizio anno perché girando per le scuole, ho iniziato ieri e continuerò nei prossimi giorni, c'è molto entusiasmo, quindi sono felice che abbiamo iniziato il 13 settembre perché c'è bisogno della didattica in presenza dopo un anno difficile, quindi speriamo in un anno più sereno per tutti in modo che i ragazzi possano studiare tranquillamente in sicurezza. Dal proposito, primo giorno di scuola, oggi il secondo, quelle persone che non sono in possesso del Green Pass, ovviamente c'è stato l'accesso inibito all'interno degli istituti scolastici, però nella nostra regione ci sono stati pochissimi casi. Non abbiamo riscontrato grosse criticità, io sono in contatto anche con la TOZ e i vari dirigenti, quindi un inizio molto tranquillo e speriamo che anche il proseguo sia allo stesso modo, in modo come dicevo prima che questo anno sia più sereno per tutti e anche per i ragazzi che sicuramente devono fare una didattica in presenza perché è molto migliore rispetto a quella a distanza, a livello istruttivo, di formazione e soprattutto di socializzazione. Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo, continua infatti l'incremento dei transiti. Nel mese di agosto lo Scalo Pescarese ha registrato 69.076 passeggeri, di questi 68.748 si sono mossi su collegamenti commerciali, dei quali 35.414 su voli nazionali e 33.334 su voli internazionali. Complessivamente i voli commerciali sono stati 517, dei quali 267 nazionali e 250 internazionali. A luglio erano stati 487, con 251 nazionali e 236 internazionali. In totale nei tre mesi estivi, giugno-agosto, i passeggeri registrati sono stati 164.754, con giugno che si era fermato su una movimentazione di 32.778, luglio che ha raddoppiato arrivando a 62.900 e agosto con oltre 69.000. Il mercato italiano che ha registrato i flussi maggiori è la Lombardia, collegata con due destinazioni, Linate e Bergamo-Orio-Alserio, che tra giugno e agosto ha superato i 43.700 passeggeri. La seconda regione è la Sicilia, con tre destinazioni, Trapani, Palermo e Catania, e 21.800 passeggeri movimentati. Quindi la Sardegna, con tre destinazioni, Alghero, Olbi e Cagliari, e poco meno di 15.000 passeggeri. Con l'estero i maggiori flussi sono stati con Germania e Belgio. Si torna alla normalità pre-Covid, all'ospedale Mazzini di Teramo, riaperti i reparti di chirurgia vascolare e di psichiatria. Intanto la ASL ha appena inviato una lettera di diffida al personale sanitario che non si è ancora vaccinato con la minaccia di sospensione dal lavoro. Tania Bonici-Castelli. L'ospedale Mazzini di Teramo torna alla normalità pre-Covid. Riapre ai pazienti, in piena autonomia, il reparto di chirurgia vascolare che nell'ultimo anno e mezzo era stato accorpato alla chirurgia toracica. Anzi, da oggi torna a disporre di 16 posti letto, dai 10 che aveva durante l'accorpamento. Una riapertura benedetta dal Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, insieme a quello della nuova psichiatria, chiusa durante il primo lockdown per la riconversione del terzo lotto a ospedale Covid, dove resta però stabile una rianimazione dedicata. Ora la psichiatria è ospitata al pianterreno del secondo lotto, nell'ex centro trasfusionale. Ha riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma. Adesso sono 4 i posti letto, attivati e presto saliranno a 9. Il direttore generale dell'Asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha ringraziato tutti coloro che si sono prodigati per consentire la riapertura dei due reparti, che rappresentano due ambiti importanti dell'offerta sanitaria dell'Asla Teramana. Intanto è di queste ore la notizia che, proprio per volontà del manager Di Giosia, sia partita una seconda lettera di diffida a tutti gli operatori sanitari che non si sarebbero voluti vaccinare. In prima battuta rappresentavano il 20% del totale, ma molti si sono adeguati. Oggi il numero degli irriducibili destinatari della seconda ingiunzione alla vaccinazione sarebbe di circa 100 unità, tra i medici, infermieri ed altri addetti. La minaccia che i vertici aziendali avanzano è quella della sospensione dal lavoro per chi ha deciso di essere un Novax. Inoltre, per volontà dell'Asla di Teramo, saranno controllati tutti i certificati di esenzione al vaccino, presentati dal personale sanitario, per comprovarne la validità. Numeri positivi per il piano parcheggi estivo del Comune di Pescara. L'assessore alla viabilità Mascia ha spiegato che sono aumentati del 40% gli incassi rispetto allo scorso anno. Il bilancio dei parcheggi per quanto riguarda la scorsa estate in città, cosa è venuto fuori? Che estate è stata a livello di parcheggi? È stata un'estate perfettamente commisurata alla importanza che Pescara ha assunto a livello nazionale, e io direi anche a livello internazionale, per il conseguimento della bandiera blu. Questo vuol dire che forse dopo diversi anni abbiamo avuto a Pescara turisti, abbiamo avuto turisti italiani, turisti stranieri, i quali sono arrivati in città anche con le automobili e hanno avuto la necessità di trovare un'offerta di parcheggi estivi che fosse adeguata ad una città che ormai ha anche una connotazione turistica, oltre che quella destagionalizzata, che è una caratteristica di Pescara. E allora 1800 posti auto che sono stati messi a disposizione da nord a sud per i cittadini pescaresi, per i cittadini abruzzesi e per tutti coloro che hanno raggiunto Pescara apprezzandone la bellezza, apprezzandone le attività economiche e apprezzando soprattutto la trasparenza del nostro mare. Con degli incassi ragguardevoli, migliorati rispetto al 2020 di circa il 40%, e questo è un aspetto anche positivo perché consente alla società Pescara Multiservice che gestisce i nostri parcheggi cittadini di poter anche programmare ulteriori investimenti. Sicuramente questa è stata una stagione un po' particolare perché l'assessore, come già illustrato, abbiamo esteso le aree di parcheggio a pagamento estive nella riviera sud, nella riviera nord, nella strada parco che quest'anno è stata maggiormente utilizzata in più fine settimana rispetto al passato. Il valore aggiunto di questa stagione è stata la programmazione di una segnaletica per i parcheggi estivi della riviera sud che ci hanno consentito di poter far lavorare in quella zona durante la settimana gli ausiliari della sosta e questo ha consentito anche di ridurre i costi del personale per la stagione estiva e quindi la società quest'anno ha avuto sicuramente da un bel margine rispetto a quelle che sono state le soste estive. Cambiamo pagina per le prossime elezioni comunali a Sulmona, il centrosinistra ha scelto come candidato sindaco il 59enne funzionario della ASL Gianfranco Di Piero al suo sostegno Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre tre liste civiche. Stefano Recanati. La nostra è una coalizione progressista che annovera oltre a forze politiche nazionali simboli forze politiche nazionali consolidati come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle anche delle formazioni civiche che sono espressioni di diverse sensibilità. Quindi è una coalizione allargata che contempla oltre alle forze politiche anche altre realtà e serve proprio a dare la sensazione, a dare il nostro identikit e quello di essere una coalizione ampia a forze trazione progressista che si ispira quindi ai valori del cambiamento, del rinnovamento dell'area progressista. La sanità è un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini sul quale la politica deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo, Sulmona ha un presidio ospedaliero che è una realtà, un presidio strutturalmente all'avanguardia però ha necessità che venga dotato di risorse umane e strumentali necessarie per poter compiere il suo proprio ruolo. Alla cultura Sulmona è stata sempre, soprattutto negli anni passati, negli anni trascorsi, un punto di riferimento a livello regionale per le attività culturali e il turismo è una chiave di lettura. Silone dice, è una chiave di sviluppo, Silone dice nell'avventura di un povero cristiano che tra queste montagne c'è una tradizione antica, più antica della stessa venuta di Cristo, che è l'ospitalità. Ecco, noi dobbiamo puntare su questa ricettività, potenziare la ricettività per consentire che Sulmona possa intercettare sempre maggiori flussi turistici, perché in alcuni periodi dell'anno ci sono sicuramente delle presenze significative, però dobbiamo fare in modo che il turismo si espanda, che coinvolga altri attori, in modo tale da essere una risorsa maggiormente utilizzata. Anche in concomitanza con la riapertura delle scuole, l'assessore comunale di Avezzano, Maria Teresa Colizza, ha fatto il punto circa la diffusione del Covid nel suo comune e sulle vaccinazioni, con particolare riferimento alle fasce più giovani. Sono ripartite anche tutte le attività scolastiche, quindi è cominciato un nuovo anno scolastico a livello collettivo, perché il Covid-19, lo diciamo sempre, è una battaglia personale, ma anche collettiva, quindi comunque di comunità e di regione in qualche modo. In questo caso, quali sono le misure che possiamo adottare per evitare che salga il tasso di occupazione ospedaliero? Con la ripartenza delle scuole, noi come amministrazione comunale abbiamo immediatamente fatto, nelle giornate di sabato e domenica scorsi, uno screening per le scuole primarie e secondarie di primo grado, considerando che i bambini al di sotto dei 12 anni non sono vaccinabili. Abbiamo fatto questa operazione di screening che è importante per ridurre la circolazione virale e abbiamo trovato un positivo, una persona francamente positiva ed un contatto stretto di quest'ultimo, fortemente sospetto e che deve ripetere il tampone. Io ritengo che sia molto importante il ruolo dei medici di medicina generale a questo punto e dei pediatri di libera scelta che devono fare una vera e propria operazione di counseling vaccinale, devono cercare di vincere le resistenze con un'informazione che sia il più possibile personalizzata sul paziente e non generica. Questo per facilitare la decisione di tutti coloro che ancora esitano riguardo alla vaccinazione, probabilmente perché hanno una percezione di rischio superiore per quello che può comportare la vaccinazione che per quello che può comportare la malattia infettiva. In questo senso è stato già fatto molto perché nella fascia dai 12 ai 18 si sono vaccinati in parte con tutte e due le dose, in parte solo con la prima dose, il 71% dei ragazzi. Siamo alla pagina dello sport, domani sera alle 20 e 30 il Pescara tornerà subito in campo per il secondo turno di Coppa Italia sfidando all'Adriatico il Grosseto Garasecca che sarà diretta da Simone Taricone di Perugia, intanto l'ex capitano del Pescara Marco Pomante, giocatore di Auteri, dieci anni fa la nocerina parla dei biancazzurri e confida nella crescita della condizione fisica del gruppo. Vediamo il servizio. Ha conquistato una storica promozione in B con la nocerina nella stagione 2010-2011 in panchina Gaetano Auteri, l'ex capitano del Pescara ed ora allenatore del Pineto in Serie D Marco Pomante ha solo parole al miele per il tecnico siracusano e per il suo stile di gioco che in questo inizio di stagione, conferma lo stesso Pomante intervenendo al replay, risente di una condizione fisica non ottimale. Il lavoro atletico imposto da Auteri nel precampionato è molto duro e nelle prossime settimane produrrà i suoi effetti con ripercussioni positive sul tipo di calcio voluto dall'ex tecnico, tra le altre di Benevento e Catanzaro. Si vede il marchio del mister, si vede che è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco, cerca di avere una pressione molto alta a squadra avversaria. È normale che adesso non la sta accompagnando una buona condizione fisica, ma penso sia normale perché siamo alla terza giornata e trovare una squadra che stia al 100% della propria forma è difficilissimo. Per come gioca il Pescara sinceramente la condizione fisica è importante perché lui predilige molto il gioco offensivo, attacco con tanti uomini e fisicamente se non reggi questa pressione rischi sempre di prendere tra virgolette contropiedi. Lui vuole giocare sempre con la difesa altissima, con la pressione alta per 90 minuti. Il problema è che adesso la condizione non regge, non è facile, poi lui i tre attaccanti difficilmente li sfrutta nella fase difensiva e quindi quando non hai una condizione fisica ottimale difficilmente riesci a reggere per 90 minuti. Integralista del 3-4-3, ma nelle ultime due gare nel corso della ripresa Auteri ha modificato l'assetto passando al 4-3-3. Lui difficilmente cambia modulo, però è vero che anche Rosa ha giocatori che nel centrocampo ha giocatori importanti. Momemusha, Ipompetti, sono giocatori che sai, giocando a due, secondo me fanno un po' fatica. È normale, lui poi è un allenatore esperto, sicuramente riuscirà a trovare la quadra, però al di là dei numeri è l'atteggiamento che lui sicuramente non cambierà. Da buon allievo Marco Pomante, ora anche egli allenatore, segue le orme del maestro e si prepara al debutto in campionato di domenica prossima contro il Castelnuovo. Marco, tu giochi come Auteri? Sì, sì. Diciamo che io l'anno scorso ero partito per giocare con il 4-3-3, poi, come sapete, tutte le vicissitudini che sono cesse Covid, un po' di infortuni, mi sono dovuto adattare anche a seconda delle esigenze degli under. Riparto con questo modo, diciamo che ho... Domenica si inizia. Domenica si inizia con il Castelnuovo, una partita difficile, speriamo di partire bene. Porta e girevoli per due allenatori abruzzesi ed ex Pescara. Eusebio Di Francesco infatti è stato esonerato in Serie A dall'Ellas Verona seguito delle tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato, l'ultima ieri sera a Bologna. Esonerati anche i collaboratori di Di Francesco, ovvero Francesco Tomei, Giancarlo Marini, Stefano Romano e Franco Gianmartino. Invece potrebbe tornare presto in panchina Massimo Oddo, che nelle prossime ore incontrerà i dirigenti del Vicenza, che hanno deciso di esonerare l'allenatore Mimmo Di Carlo. Anche in questo caso tre partite di campionato in Serie B e tre sconfitte per il Vicenza. In caso di accordo Massimo Oddo dovrà risolvere il contratto che lo lega ancora al Pescara dopo l'esonero dello scorso mese di novembre. Dopo lo 0-0 di Modena il Teramo prepara il match di Coppa contro il Siena di giovedì al Bonolis ore 15 per poi concentrarsi sulla gara di campionato di domenica, sempre in casa contro la Vispesaro. Federico Viero ha avuto la miglior palla-gol del Teramo al Braglia e il centrocampista Biancorosso ancora non si capacita di come il suo tiro sia stato parato. Viero guarda avanti con fiducia, le occasioni ci sono state e il gol per il Teramo arriverà. Vediamo. Questo gol mi avrebbe dato una carica di autostima non indifferente. Purtroppo è già la seconda o terza volta che ci vado vicino senza avere un buon risultato ma penso che sia importante trovarsi lì in quel momento, il momento giusto. Poi penso che col tempo arriveranno. Non ho capito ancora adesso come ha fatto il portiere a parare il tiro e sicuramente è stato fortuito però con pazienza arriverà anche il gol. Diciamo che questo momento secondo me poteva arrivare prima, poi non è arrivato per varie circostanze. Un po' sono di pesa da me ovviamente, io mi prendo tutte le colpe e un po' purtroppo non sono di pesa da me però l'importante è pensare al presente, non al passato. Io adesso sto fortunatamente avendo continuità e spero di mantenerla e proverò a dare il meglio. Io penso che bisogna sempre vedere il bicchiere a mezzo pieno, nel senso che le occasioni create sono state tante e i dati parlano chiaro. Abbiamo sempre avuto il possesso palla rispetto agli avversari, che gli avversari sono stati squadre costruite per vincere il campionato e abbiamo avuto anche 60-65% di possesso palla, quindi questo ci fa capire come abbiamo dominato il gioco. E comunque le occasioni penso che pur non sfruttate siano state create, quindi l'importante è quello, dobbiamo ripartire dalle cose buone e poi penso che il gol arriverà. Adesso c'è un doppio turno casalingo, l'ispesore di Molese, saranno occasioni di otte sia per cercare il primo gol sia per cercare anche la prima vittoria. Sì, certo. Noi siamo consapevoli che in queste due partite dobbiamo assolutamente cercare la vittoria che in queste prime tre partite ci è mancata, ma penso che se riusciamo a mettere in campo le nostre cose, i nostri valori, i nostri ideali, la vittoria possa arrivare tranquillamente. Due giorni fa siamo alla Serie D, due giorni fa ultimo test precampionato per il notaresco battuto a Montegiorgio per 2-0 dalla locale formazione che partecipa al medesimo girone di Serie D. Domenica l'esordio stagionale a Fiuggi, il tecnico Massimo Epifani analizza l'ultima amichevole e si proietta sulla prima giornata di campionato. Ascoltiamolo. Il risultato a parte, che indicazione hai potuto vedere? È stato un grande allenamento, un grande test con una squadra di pari categoria. Abbiamo provato qualcosa ed è venuto fuori qualcosa di importante. Il risultato conta poco in questo momento, ma conta più. trovare la quadra per arrivare domenica prossima al 100%. Ci sono viste delle buonissime cose, ci sono viste delle cose meno buone, però credo che queste sono le partite di avvicinamento e sono contento perché la squadra sta crescendo sotto l'aspetto del palletto, sta crescendo anche sotto l'aspetto del modo di stare in campo a prescindere dai due gol pressi che potevano essere evitabilissimi tutte e due. però la squadra piano piano sta crescendo, sappiamo ancora che dobbiamo migliorare, sappiamo ancora che bisogna lavorare ancora per arrivare a quello che vogliamo noi. Ci abbiamo un'altra settimana dove sarà una settimana molto di scarico, quindi saremo più leggeri nel lavoro fisico, avremo più l'aspetto della preparazione della partita e cercheremo domenica di prepararsi per questo campionato per fare un grande campionato. Ultimo servizio dedicato al basket con la presentazione della nuova stagione per la renova TASP Teramo a spicchi. Vediamo il servizio di Agna Cantagalli con le interviste al presidente Fabio Nardi, al coach Giorgio Salvemini e al capitano Marco Cucco. Partiamo con i migliori auspici, di fare bene, di fare un bel campionato, di portare il nome della città di Teramo più in alto possibile. Quindi noi comunque è un orgoglio rappresentare la città nel terzo campionato nazionale di pallacanestro, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. La squadra è una squadra nuova, una squadra che si sta costruendo, sta lavorando tanto, è una squadra che ha già trovato un buon affiatamento, quindi è una squadra che credo ci faccia divertire parecchio. Sicuramente l'obiettivo è quello sempre di mantenere la categoria. Poi è logico, l'appetito viene mangiando, sperando di poter fare più vittorie possibili e vediamo un po' dove possiamo arrivare a fine campionato. Ce l'ha un sogno nel cassetto. Riempire il palazzetto di Scapriano. E nonostante la sconfitta nel derby con Roseto, quali indicazioni comunque positive lei ha tratto? Guarda, secondo me la valutazione della partita, come ho detto in presentazione, va contestualizzata al periodo e a quello che si sta facendo. Abbiamo fatto, secondo me, una prestazione buona, sotto molti aspetti, non continuativa nell'arco di tutta la gara, ma questo è poi figlio del periodo in cui si sta lavorando e per quello che stiamo facendo noi. Ci è mancato quel vissuto di squadra nei momenti importanti, ma il vissuto si ottiene nel lavorare insieme, nel fare esperienza delle cose positive e di quelle negative e quindi crearsi dietro un bagaglio di esperienza che poi è quello che nei momenti topici o critici di una partita fanno la differenza e sono quei momenti esperienziali nei quali tu ti vai ad appoggiare. A questo fa parte del processo di avvicinamento al 3 ottobre, quindi diciamo che siamo nel punto in cui volevamo stare. Sto vedendo una squadra molto disponibile, che questa secondo me è una cosa veramente, veramente importante. Ci sono dei ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, tanta voglia di ascoltare e soprattutto hanno voglia di mettersi a disposizione degli altri, quindi da questo punto di vista secondo me ci sono grandi margini di miglioramento. Lavoriamo di settimana in settimana per migliorare ogni volta, quindi secondo me faremo veramente un bel campionato. Prima di chiudere vi ricordo intanto l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con ProTeramo, il nostro settimanale dedicato al Teramo, con i riflessi filmati del match di Modena e poi proiettandosi verso il test di Coppa Italia e quello della prossima giornata di campionato contro la Vispesal. e poi tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento con le prossime edizioni del TG6. Grazie per l'attenzione e l'attenzione e l'attenzione e l'attenzione e l'attenzione.